se un corpo è morto è morto non può risorgere questa è l'obiezione che fanno l'apostolo paolo anche l'obiezione dell'uomo di oggi che non crede ancor più alla resurrezione dei morti e allora l'apostolo paolo propone l'analogia del seme solo il seme che muore dà frutto dà vita ma se il seme non muore non può dare vita e in fondo la logica del seme è la logica della nostra vita fino a quando tu non muori tu togli soltanto la vita non dai la vita e stessa esempio del seme lo troviamo nel vangelo nella parabola del buon seminatore e vediamo che quando il seme non muore cioè rimane sulla strada diventa insignificante quando il seme muore ma muore a metà perché buttato nella roccia e non fa in profondità non risorge non dà vita quando il seme muore ma non si è pienamente convinti perché si è presi dalle spine dai pensieri del mondo e allora quella morte non porta nulla solo quando il seme entra in profondità e ti fa morire totalmente proprio negli abissi dei tuoi inferi e allora lì che dai vita e allora lì che risorgi e allora lì che diventi fecondo il signore ci dono di morire veramente per risorgere veramente buon amissimo